Vedo l'ora già a livello è così, io con gli schermi che controllo tutti i villaggi, non vedo l'ora. Droni ovunque, ovunque, con la mia voce come Di Becker vi dirà che cazzo, dove cazzo vai, torna a casa. Questa sarà la voce del drone. E l'autorizzazione non si passeggia. Non si esce, questo è l'ordine del sito di De Luca e basta. Di becco uno a uno. Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa? Bene, vi impedisco di passare un po' un po'. Non si esce da casa, nel passio, nel babbio. Non si esce, questo è l'ordine del sito di De Luca e basta. Dove cazzo vai, torna a casa. Caccia il culo. Ecco qual è il modo per far applicare le norme. Non si esce, questo è l'ordine del sito di De Luca e basta. Non si esce da casa, nel passio, nel babbio. Non si esce, questo è l'ordine del sito di De Luca e basta. Dove cazzo vai, torna a casa. Caccia il culo. Ecco qual è il modo per far applicare le norme. Non si esce, questo è l'ordine del sito di De Luca e basta. Arrestatemi pure. Chiara? 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 Grazie a tutti.